Una nuova pista ciclabile di oltre un chilometro da Piazza dell'Unificazione sino al confine con Ponte Sasso per un importo di 428 mila euro, di cui 128 mila arrivano dal bilancio comunale di Mondolfo e 300 mila sono invece proventi di un finanziamento. È il completamento della ciclovia adriatica, un progetto che rientra nell'itinerario della ciclovia che collegherà Fano, Marotta e Senigallia. Fra gli obiettivi anche quello di riqualificare l'intera città e favorire allo stesso tempo la mobilità sostenibile. Proseguono i lavori di riqualificazione del lungomare di Marotta Nord, un'opera pubblica importante a cui tenevamo molto come amministrazione comunale. La zona nord era stata lasciata da anni all'abbandono e quindi aveva bisogno e necessitava di interventi e questa devo dire che è una bellissima riqualificazione, un allargamento della pista ciclabile, un tratto che fa parte della ciclovia adriatica che collegherà Marotta con Fano e con Senigallia e quindi devo dire un intervento che è molto apprezzato da tanti cittadini. Abbiamo rialzato la pista ciclabile per metterla in sicurezza, l'abbiamo allargata, i posti auto sono stati spostati nell'automonte, c'è stato un importante intervento anche di asfaltatura, ora stiamo realizzando la segnaletica orizzontale, quindi tra qualche settimana la vedremo finita con la riqualificazione anche dei muretti, con le nuove alberature e anche con la realizzazione dei mosaici grazie all'associazione Chiaroscuro. In questi anni abbiamo fatto tanti interventi di riqualificazione del lungomare che sta diventando sempre più una palestra a cielo aperto, quindi tanti cittadini che lo utilizzano per camminare, quindi passeggiare, ma anche per correre, per andare in bicicletta e quindi questo significa qualità della vita, qualità dell'aria e qualità dell'ambiente. Intanto sono anche iniziati i lavori per la pista ciclabile che collegherà Piano Marina a Marotta Centro. Proseguono anche i lavori del percorso ciclopedonale che collegherà il quartiere di Piano Marina a Marotta Centro. Nelle prossime settimane continueremo i lavori con la segnaletica orizzontale, il percorso verrà colorato di rosso, un percorso importante con illuminazione pubblica che permetterà a tutti i cittadini di Piano Marina di arrivare in sicurezza alla zona centro di Marotta, quindi via l'Europa ma anche via Berlinguer e via G di Vittorio. Abbiamo visto anche la grande soddisfazione da parte dei cittadini, un percorso che già inizia a essere utilizzato da ciclisti, dalle persone che hanno voglia di camminare ma anche che vogliono raggiungere il centro di Marotta e questo percorso verrà denominato Mondolfo Airfield che era l'aeroporto che sorgeva durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1945 proprio qui in questa zona e quindi questo percorso sarà un vero e proprio spazio culturale dove ci saranno anche delle immagini che ripercorreranno la storia dell'aeroporto grazie alla collaborazione dell'Archeoclub ma anche di cittadini privati come Eddie Eusebi, come Mario Ercolani che ci hanno dato una mano e hanno dato un contributo a ripercorrere quella che era appunto la storia dell'aeroporto.